Ci troviamo all'interno del Museo Diocesano Albani di Urbino, uno scrigno che raccoglie tantissimo del patrimonio di questo territorio. Ci troviamo con la storica dell'arte, Sara Bartolucci, e qui vediamo questa prima guida di viaggio di Urbino, che fu addirittura scritta nel 1700. Sì, nel 1703 da Papa Clemente X X Albani, Giovanni Francesco Albani, Urbinate, il quale raccontò ai prelati Oregolancisi che cosa avrebbero potuto incontrare in questo loro viaggio nel territorio dell'ex ducato di Urbino. E qui leggiamo proprio l'indicazione a visitare la cattedrale, con la famosa cena di Federico Barocci, l'oratorio della grotta con i quattro begli oratori, e le suppellettili conservate all'interno delle sacrestie, che proprio Clemente X aveva prestato, con uno splendido mobilio, atto ad accogliere degli oggetti di oreficeria straordinari. Quali sono le opere più importanti che troviamo nell'esposizione? Questo è un museo diocesano, quindi è un museo che raccoglie manufatti che provengono da Urbino, dalla cattedrale, in primis, ma anche un po' dal territorio dell'Arcidiocesi di Urbino Urbani a Sant'Angelo in Vado. Gli oggetti sono eterogenei, si va dai dipinti, tele o tavole, a sculture, in bronzo, anche in marmo, abbiamo dei codici manoscritti, dei corali per il canto della messa, della liturgia, ci sono paramenti sacri, oggetti proprio per l'arredo sacro, come lo straordinario complesso d'altare, parato d'altare, fabbricato a Maisen e commissionato dal cardinale Annibale Albani, in porcellana finissima. Ci sono oggetti di straordinario valore e unici quasi, come il candelabro in bronzo fuso di Francesco Di Giorgio Martini, il grande architetto che lavora a Palazzo Ducale e poi lavora anche qui per la sua cattedrale. E poi il leggio che Federico da Montefeltro rapina, la città di Volterra, è veramente uno scrigno di tesori tutto da scoprire. Allora andiamo a scoprire nel dettaglio alcune di queste opere. Siamo nella sala dedicata alla famiglia Albani. Questo museo si chiama appunto Museo Albani per raccontare la munificenza, soprattutto di Clemente X e del cardinale Annibale, che è anche il committente di questo straordinario complesso d'altare, in porcellana finissima, e realizzato presso la manifattura di Maisen, che riuscì per la prima volta in Europa a realizzare degli oggetti in porcellana bianca, secondo la ricetta cinese originale. Come vedete ogni oggetto presenta l'emblema della famiglia Albani, Tremonti e la Stella, come se il committente avesse voluto proprio firmare ciascuno degli oggetti. Questa sala conserva degli altri oggetti di rificeria straordinari, come la tiara di Clemente X, uno straordinario reliquiario barocco contenente un frammento della Croce di Cristo, oppure le ambre che vengono dal Baltico. Pensate che il cardinale Annibale ricevette dalla regina di Bohemia proprio una pisside, che originariamente era una coppa da brodo e che poi fu trasformata in un oggetto liturgico e proprio il cardinale Annibale fu il destinatario di questo preziosissimo dono. Siamo qui all'interno della Sacrestia Nuova che Clemente X volle proprio per esporre questi straordinari oggetti che erano stati donati sostanzialmente dalla sua famiglia o che erano in dotazione alla cattedrale dai secoli precedenti. E siamo in particolare di fronte ad un oggetto straordinario che è il Leggio, che Federico da Montefeltro rapinò durante la presa di Volterra nel 1472. Durante il saccheggio della città lui portò ad Urbino questo oggetto che si coniuga benissimo con la celebrazione della sua famiglia e della sua persona, perché come vedete nella parte alta rappresenta proprio un'aquila, un'aquila con la corona, quindi l'aquila imperiale. Questo oggetto venne collocato all'interno della straordinaria biblioteca di Federico da Montefeltro, ma dopo la devoluzione allo stato pontificio del Ducato di Urbino questo oggetto passò come molti altri a Roma e Clemente X decise di riconsegnarlo, restituirlo alla sua città natale. Questa volta però venne collocato non più in biblioteca, in quanto la biblioteca federiciana non esisteva più all'epoca, ma all'interno della cattedrale. Quando questo museo, il Museo Albani, nel 1968 è stato costituito, si è pensato che fosse più consono per questo oggetto essere musealizzato. Il museo, essendo un museo di arte sacra, contiene due dipinti che raffigurano dei soggetti sacri. Ci sono anche tante natività? Sì, molte natività, Madonna e col bambino. È presente un po' tutta l'iconografia che si afferma prima della controriforma e poi dopo. Questa sala in particolare racconta come il verbo artistico di Raffaello viene recepito nel centro Italia, in particolare qui nella sua città natale. Alle nostre spalle c'è un dipinto realizzato da un artista riminese, Benedetto Coda, che racconta una natività ai Santi. Vediamo il bimbo che è disteso su una pietra, anziché sulla paglia. La pietra che è già la prefigurazione di quello che sarà il giaciglio sul quale verrà deposto dopo la crocifissione. Quindi c'è già la prefigurazione di quello che è il suo destino. È avvolto infatti in un lenzuolo bianco, che è simbolo di purezza, ma è lo stesso lenzuolo in cui vengono avvolti i corpi senza vita. E poi il rosso, che è il rosso del sacrificio, ma anche il rosso della regalità. Tutto in un contesto paesaggistico che risente anche dell'influenza fiamminga di questi artisti che venivano dal nord, che con Federico da Montefeltro cominciano a frequentare la corte urbinate e lo faranno fino al Cinquecento. Vediamo che le opere sono bellissime, sono state restaurate così come tutta la struttura museale. Quando è stato riaperto il museo? Il museo è stato riaperto dopo quasi due anni di lavori nel 2010, il 20 marzo del 2010, ed è stato fatto un grande lavoro di ristrutturazione dell'edificio, un riallestimento completo e anche le opere, come potete vedere, sono tutte in ottimo stato. Questa che vediamo qui al nostro fianco è stata restaurata, di cosa si tratta? Sì, questo è il candelabro in bronzo fuso che Francesco Di Giorgio Martini realizzò su committenza di Federico da Montefeltro. Lo capiamo perché sulla base di questo oggetto ci sono proprio gli emblemi federiciani, dallo struzzo alla bomba scoppiata e quindi la committenza del duca simbolo, del ducato, urbinate e certa. Doveva reggere un grandissimo cero pasquale ed è stato quindi realizzato per la cattedrale. La cosa straordinaria, se ci pensiamo, è il fatto che Francesco Di Giorgio, il grande architetto di Palazzo Ducale, probabilmente colui che ha realizzato l'ultima fase, chiaramente, della fabbrica, è intervenuto anche in cattedrale, non si è fatto problema di cimentarsi nella realizzazione di un oggetto che per noi oggi risulta essere minore, ma che non lo è affatto per la devozione della famiglia ducale per la propria cattedrale. In questa sala sono raccolte opere realizzate da Barocci, dalla sua scuola o dai suoi epigoni, in particolare un bozzetto per l'estasi della Beata Michelina, il cui dipinto conclusivo, concluso, è alla Pinacoteca Vaticana. E poi c'è una sacra famiglia con San Giovannino, detta anche Madonna del Gatto, che è stata ritenuta fino a poco tempo fa un originale di Barocci, mentre ci si è accorti, perché sono emersi i documenti, che in realtà è una coppia d'inizio Settecento. Questo ci fa capire quanto il fenomeno baroccesco, quanto la replica dello stile e dell'iconografia baroccesca furono consoni a quella che era la spiritualità dell'epoca, per molti decenni ancora la morte del maestro, che avvenne nel 1612. Entrando nell'ultima sala dove sono raccolti questi oggetti preziosi, meravigliosi, abbiamo proprio l'idea del tesoro della cattedrale. Qui cosa vediamo? Sì, qui ci sono conservati molti oggetti di orificeria, di committenza di nuovo della famiglia Albania, per questo che vediamo cristalli di rocca, ori argenti preziosissimi, reliquiari calici, oggetti per la liturgia, il famoso reliquiario di San Crescentino, che contiene una reliquia appunto del Santo Patrono di Urbino, che viene festeggiato il primo di giugno. Il Museo Diocesano Albani di Urbino è collegato anche con gli orari di apertura, con l'oratorio della grotta della cattedrale di Urbino, e lì troviamo esposto ancora per un po' il bambino ritrovato del Barocci. Sì, infatti questo è un circuito museale unico, per cui con lo stesso biglietto si accede ad entrambi i siti, che sono proprio a destra e a sinistra della cattedrale. E fino al 7 gennaio abbiamo l'opportunità di mostrare questo frammento, che fu tagliato nel 1982 da una pala, il martirio di San Sebastiano, che Barocci eseguì tra il 1557 e il 1558 per la cattedrale di Urbino. Oggi il frammento è stato ritrovato e il frammento e l'opera sono esposti insieme all'oratorio della grotta. Fino al 17 di dicembre sarà possibile entrare al Museo alle Grotte il sabato e la domenica e i giorni festivi, mentre dal 17 di dicembre al 7 di gennaio il museo sarà aperto tutti i giorni con la sola chiusura del martedì. Gli orari? Gli orari saranno variabili in questo periodo, quindi vi consiglio di visitare la pagina Facebook del museo o anche il sito del museo dove sono dettagliati.